Con l'associazione L'Arte e la Terra Pian di Massiano in Fiore, domenica 23 aprile dalle 8 alle 20, in scena la mostra mercato con 2000 metri quadrati di piante e fiori, ma anche abbigliamento, intimo, biancheria, calzature, artigianato, ubistica e piccolo antiquariato. Pian di Massiano in Fiore, tutta un'altra fiera.